E' stata inaugurata ieri al Marina di Pescara la 38esima edizione di Mediterranea, la fiera dedicata alle tipicità agroalimentari in programma fino a domani, domenica 7 luglio. L'evento con ingresso libero dalle ore 18 e 30 a mezzanotte è ospitato in un'area espositiva completamente rinnovata e con un'area dedicata allo street food. Sul palco ieri si sono alternate le novità più cool dell'agroalimentare, portate avanti da giovani influencer come rucola e non seguo la ricetta. Preceduta dai cocktail di Alessandro Di Tizio, che con le sue erbette selvatiche abruzzesi ha trovato successo da Cepagatti in Francia, questa sera alle ore 18 e 45 salirà sul palco Francesca Caldarelli, imprenditrice di successo di origini pescaresi, che ha fatto della rivisitazione delle tradizioni culinarie ed artigiane abruzzesi il biglietto da visita per entrare nel mondo degli eventi milanesi. Dalle atmosfere raffinate di Francesca Caldarelli si passerà domani, domenica 7 luglio, alle ore 21, a Davide Nanni, il cuoco selvaggio abruzzese. Davide, 31 anni, è uno degli interpreti della nuova cucina wild, preparazioni anche complesse ma eseguite nella natura, su fuoco vivo, con pochi strumenti e molta tecnica. Oltre al palco la fiera dell'agroalimentare sarà caratterizzata da 21 aziende, 6 del settore turismo, 9 stand nell'area street food del Consorzio di Tutela della Vini, l'Enoteca regionale, Slow Wine e Fisar Vini, ed un programma ghiotto di novità tra corsi gestiti dai Gallabruzzesi e Slow Food.